Benvenuti al video. Questa è una presentazione del prodotto Flash, Flash digitale inclinabile. Il Flash 2 Polaroid è un dispositivo show mount innovativo, del tutto automatico con sistema dedicato e supporto full TTL con luce LED integrata per SLR digitali. Dato che i fotografi di oggi usano le loro reflex per scattare immagini e registrare video, questo dispositivo eliminerà la necessità di passare dal Flash alle luci LED montate sull'attacco show mount. Con il 2 Flash della Polaroid avrai entrambi in un solo dispositivo. Risparmia tempo e cattura i momenti migliori con fantastici video o scatti grazie a questo vero e proprio must. Questo video partecipa al programma Affiliazione Amazon EU, dalla pubblicità e link alla Amazoniti. Per maggiori dettagli e ottenere un grande su Amazoniti, clicca sul link nella descrizione sottostante. Grazie per la visione.